Ridisegnare Arezzo sulle esigenze del manifatturiero, del mercato del lavoro, ma soprattutto del turismo. Questo è lo scopo del nuovo gruppo di lavoro per la nuova pianificazione urbanistica del capoluogo. È stato finalmente concluso l'iter per l'affidamento del servizio della redazione dei nuovi strumenti urbanistici della città, quindi piano strutturale e piano operativo, servizio che si è aggiudicato un gruppo composito di vari professionisti che fa capo al capogruppo che è l'archedetto Sergio Dinale. Ha loro il compito di disegnare la città del futuro, secondo quegli obiettivi che il Consiglio Comunale ha dato in un documento che è stato approvato in Consiglio Comunale a settembre dello scorso anno e che ha proprio come titolo le linee guida per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici della città. È un tema importante quello del disegno della città dei prossimi anni perché da questo dipende in gran parte anche il modello di sviluppo della città. Quindi io mi auguro veramente che alla classica presenza della manifattura di qualità, della manifattura ora fa in città, si comincia ad affiancare già in corso questo processo un modello di sviluppo che si basa anche sul turismo che è l'altra grande risorsa sulla quale possiamo contare. Via Galvani è una delle strade nelle quali ci sono molte infrastrutture inutilizzate. Con una sapiente rivisitazione delle funzioni potranno essere riportate a nuova vita. Quindi certamente sì, ci sarà un ripensamento delle vecchie aree industriali, artigianali e commerciali.